Ciao a tutti ragazzi, io sono Roberto Stilton e oggi sclereremo su Jumping Rush. Pronti? Io sì, iniziamo. Ditemi se volete vedere altri video di gameplay. Salta quadratino, salta. Bravissimo. Allora. E poi il mio quadratino c'è questa skin particolare che a me piace un sacco. Ora il quadratino non è più un quadratino, ma è un quadratino su un aereo. Cambia tutto. In alto, in basso, in alto, in basso. Scusate se ogni tanto sto zitto, è che non so che dire. Tipo ora. Salta, vai. Salta. Salta, salta e salta. Tempismo perfetto. Vai. Mamma mia. Questo gioco è difficile. Però sto sendo bravissimo. Mi sto meravigliando pure io. Oh no. Non dite niente a nessuno. Questo deve essere un segretino che rimanga tra noi. Va bene ragazzi, siamo tornati. Non dite a nessuno che ha attivato la gemma del checkpoint. Non dite niente a nessuno che ha attivato la gemma del checkpoint. Mamma mia. Ok, vai, vai. Vai. Ok. Ultima fase con l'aeroplanino e il quadratino. Tutto che fosse. Un segretino. Ok. Per oggi è tutto ragazzi. Quindi, da Roberto Stilton. Ciao. 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 Grazie a tutti.